Buongiorno a voi le ballerine e i ballerini e benvenuti in questo nuovo tutorial. Io sono Juan Carlos e vorrei occuparmi oggi con voi di una nuova danza. Qui sotto in descrizione ci sono tutti i collegamenti che vi servono, il clip è sottotitolato e potete seguirmi nella vostra lingua e da ultimo non manca il timestamp per andare dalla didattica alla danza oppure dalla danza tornare in didattica. Ed ora sigla e a ballare! Oggi voglio presentarvi un brawl che ha un titolo, si chiama l'homme qui marche, l'uomo che cammina. Vediamo come possiamo scomporre questa danza. Siamo in Francia, quindi siamo in brawl e quindi praticamente dobbiamo fare quattro brawl doppie a sinistra. Quindi con l'oscillazione delle braccia, vedete, sul posto, qui avanzo e qui sono un due terzo sul posto, per la terza volta avanzo e qui faccio sul posto, questi sono dei brawl doppi, faccio il quarto ed ho finito, diciamo, i quattro brawl a sinistra. Adesso viene il bello di questa coreografia, cioè praticamente punto destro, punto sinistro, uno spostamento a sinistra. E qui punto il sinistro, punto il destro e con sei passettini faccio un piccolo circoletto per ritornare sino qui. Adesso porto il peso sul destro, punto il sinistro, punto il destro e faccio il controspostamento per tornare a casa. Uno, due, tre, quattro. Però adesso il bello, ricordatevi che in quest'ultimo punto, a differenza delle altre volte dove ho fatto due punte, qui ne faccio tre, una, due, tre punte, perché con i soliti sei passi mi permette di fare un cerchietto e ritornare qui dove sono. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Avendo adesso il sinistro libero posso iniziare tutta quanta la mia coreografia da capo che consiste sempre in quattro brawl doppio e la coreografia quattro brawl doppi e questa coreografia. Ecco, questa è la nostra intro. Sinistro libero. Questo è il secondo. Terzo. Quarto. Desc- Desc- S- Di oreo. A capo. Terzo Quarto Sposto Sei Sinistra, destra, sposto Tre punte, sei Da capo Terzo Quarto Destra Sinistra Sposto Sinistra Destra Sei Punto Sinistra Destra Sposto Sinistra Destra Sinistra Tre punte Sei E Voilà Questa era la nuova danza Grazie sempre per la vostra cortesa e attenzione Magari potreste iscrivervi al canale Lasciate un like Chissà I vostri commenti qui sotto E al prossimo tutorial Ciao